Vi faccio vedere effettivamente come si crea una mappa del genere Ecco, sono subito restato fregato sugli spawn Dove va il robot? What? What? What a bug? E niente ragazzi E la gente, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo tornati su Brawl Stars Signori, nel video di oggi vediamo in super enteprima L'aggiornamento per il map maker ragazzi Infatti, da il prossimo update Sarà possibile utilizzare anche la modalità dominio E la modalità assedio come opzioni per la creazione delle nostre mappe Ed eccoci, eccoci qua sul nostro iPadino ragazzi Prima di cominciare come sempre vi ricordo 1. La super iscrizione al canale ragazzi con campanellina Mi raccomando perché solo sui canali Supercell potete rimanere aggiornati su tutte le novità di Brawl Stars E ovviamente dell'altro giochi Quindi ragazzi mi raccomando Sempre iscrizione, controllate sempre che si attiva Come anche il pollice in su Che deve essere sempre veloce su qua sotto Ovviamente su Brawl potete anche inserire il codice ferre Vi ricordo che in realtà è valido su tutti i giochi Supercell Anche Royale, Clans, A-Day, ovunque, Boom Beach, dovunque Ma basta inserirlo e su Brawl addirittura funziona con le gemme ottenute for free Potete supportare, mi raccomando ragazzi, il codice ferre nello shop Detto ciò, come potete vedere siamo su questa versione sviluppatore Come sempre ringrazio Supercell per avermela fornita Vi ricordo che viene fornita solamente l'anteprima ai partner Supercell sempre E vi faccio vedere quando si crea una mappa che cosa succede La schermata è la stessa ma andando a cambiare le modalità A un certo punto ci imbattiamo nell'assedio e nella dominio Notare che la dominio e l'assedio come anche la food brawl Non hanno la possibilità di cambiare scenario Come magari c'è in rapina, in ricercati, in sopravvivenza e in arafagemme Quindi chi lo sa che un domani non ci sarà anche un altro aggiornamento Per aggiungere delle nuove ambientazioni Visto che comunque le ambientazioni brawl, lo sappiamo, sono davvero tante Detto ciò, ragazzi, direi che possiamo andare tranquillamente a non creare niente Perché ovviamente sapete già come si fa Oddio, posso fare un piccolo test Giusto per farvi vedere quelli che sono gli elementi Che si possono utilizzare ma in realtà ho deciso di fare di meglio In questo video infatti come vedete ho realizzato ben quattro mappe Due di dominio e due del sedio Che sono un misto di mappe inventate ovviamente con torta O dei minigame più semplicemente Ne andrò a provare ovviamente con i bot Quindi vediamo un pochettino che cosa riusciamo a inventarci O meglio che sono riuscito ad inventarmi Piccolo noto dolente Andiamo adesso a provare il sedio per carità Si chiama sedio test ma ho controllato le mappe E sembra che non ci sia nessun aggiornamento alle mappe Infatti andando in fondo mi sembra che le mappe siano sempre le stesse Questo vale per la showdown, per la gemgrab, per la haste Non ho visto mappe nuove ragazzi Ho controllato ma non c'è niente su nessuna mod Però appunto le mappe nuove ce le facciamo noi Quindi andiamo a provare la prima sedio che mi sono inventato E questa ragazzi è la mappa È molto particolare perché ho cercato di utilizzare un po' tutti gli elementi Che avevo a disposizione per vedere effettivamente tutte le cose che si possono impiegare Nella costruzione mappa da sedio Ma la particolarità di questa mappa è che i bulloncini spawnano solamente al centro E se guardate bene gli spawn e ambe due le parti Potrete vedere che l'unico modo per andare al centro è passare nell'area della Ike nemica Quindi è una mappa di resistenza ai colpi della Ike Mi piaceva fare questo test e quindi ho provato Ovviamente vado a utilizzare Stu Visto che è un brawler nuovo e so che insomma tutti quanti lo volete vedere Poi voglio dire Stu è uno stuntman Cosa fai? Non usi uno stuntman proprio in una mappa Dove bisogna andarsi a schiantare Perché qua ragazzi è veramente questione di schiantarsi E infatti ci hanno distrutti Vediamo un attimino Loro oltretutto possono anche prendersi un vantaggio e venirci a pushare fin lì Guardate io posso far proprio decidere lo spawn di tutti i bulloni Questa è una cosa molto particolare Tra poco ve la faccio vedere perché è molto interessante Cioè io posso veramente decidere lo spawn di ogni singolo bullone Facciamo un giretto così tattico Ok e raga non c'ho ancora sta dinamica del colpo ultimo Incredibile ci devo prendere l'abitudine E' un po' come usare ambra per la prima volta ragazzi Sembra assurdo il colpire tenendo premuto e basta Però effettivamente è così Quindi facciamo una roba del genere Anche i dash ragazzi li sto sbagliando tutti Oh mio dio già mi immagino quando dovrò pusharlo al 30 Con calma torno su nella mia zona I bulloni continuano a spawnare solamente al centro rigorosamente Bella qua la chiusura di semino Una mossa così da un bot sinceramente non me l'aspettavo Wow li ha chiusi completamente GG a semino Ma ragazzi ma è la prima volta che trovo un bot intelligente E' da segnare sul calendario questa cosa Vediamo se riusciamo ad andare a chiudere Perché oltretutto ho notato che in questa mappa i bot non sono poi in realtà così intelligenti Perché non vanno a colpire la Cioè a difendere il robot Cioè guardate fanno dei giri strani Ma il robot lo ignorano completamente Io sinceramente non ho capito il perché di questa cosa Però vabbè direi che probabilmente riuscirò a chiudere Tra l'altro sentire anche i suoni di Stu Quando non può sparare Che strani Non so se li avete notati Ave ragazzi questo era un piccolo test Vi faccio vedere effettivamente come si crea una mappa del genere Andiamo su modifica E potete vedere appunto tutti gli elementi che si possono utilizzare Ok incluso questa nuova casellina che vedete qua nell'angolino in basso destra dello schermo Che permette di far spawnare questi che sono appunto i bulloni Se ci fate caso ogni cosa è numerata Cioè possiamo anche scegliere l'ordine che hanno i bulloni nel loro spawn Ovviamente questa è una mappa già particolare Ma aspettate di vedere la prossima Perché lì veramente mi sono sbizzarrito Prima di passare per la seconda sedia vi mostro una delle due dominio che ho fatto Per la precisione della seconda che è fatta in questa maniera È la classica 1v1 ragazzi Ma riportata nella dominio La dinamica interessante che vi voglio far vedere con questa mappa è che Quando si genera una mappa in dominio Si possono mettere gli spawn all'interno della zona Non è che la zona è un blocco che non si può toccare Anzi vi faccio pure vedere al volo Quando andando a cliccare sul tasto modifica Quello che si vede quando si builda Questa che ho appena tolto è una zona Vedete la si può selezionare e piazzare Qua tranquillamente la si può spostare Non si può far sovrapporre le altre Questo mai Ma come vedete si può spostare E ovviamente ogni zona può essere piazzata A prescindere Non ha regole Non è come la Ike Che come avrete visto poco fa Non si può spostare La zona della dominio si può spostare Vi ricordo che la Ike per chi non lo sapesse È la torretta dell'assedio Tutte le volte che dico Ike Mi guardate come se parlassi arabo Facciamo un salva E andiamo subito a provare questa mappa Ovviamente essendo un 1v1 Stu Penso che me lo stunnano a dir poco Quindi dato sia il bilanciamento E anche il remodel Vado a provare un bel Boh match adorato Ok Così vi faccio vedere Sia l'utilizzo della nuova skin Sia il buff Che ha avuto Che secondo me è tanta roba È stato molto sottovalutato Nel video Del bilanciamento Ragazzi Quindi adesso vi faccio subito vedere Guardate quanti danni va a fare Non che prima ne facesse pochi Per carità Però fidatevi Sono davvero davvero tanti danni Ovviamente qua adesso c'è un po' di immortalità Per quanto riguarda il Rico Poi il Rico si sa Worka ragazzi Quindi vincere contro il Rico è difficile Ma ragazzi Ecco Sono subito restato fregato sugli spawn Adesso come facciamo Come facciamo qua Faccio una roba del genere Cerco di rompere cheat Cerco di rompere cheat Aspetta mi sa che ci conviene Aspettare un attimo Prendiamo entrambe le zone Con calma Con calma Ottobittolo Con calma Poi appena sono tutti quanti Qui faccio tac E Sbam Andiamo dentro Ok ragazzi Vado ma che strategia Che ci ho già piantato Una roba spettacolare Vediamo dove spawniamo Spawno addirittura già No Nita spawno nell'area nemica Ok Noi siamo in stravantaggio Ci basta restare qua con calma E La chiudiamo In teoria Parita molto veloce ovviamente Ragazzi eh Mappa molto molto veloce E beh insomma Questa è già una dinamica Interessante che si può Applicare in dominio E bene Queste erano le due mappe Fatte un po' più a cavolo Ora vi faccio vedere I test Un pochettino più malati Ok Torniamo sull'assedio E vi faccio vedere Questo assedio Che ha partorito La mia mente malata Che è assedio test 2 E si potrebbe chiamare Palude Perché ragazzi È stranissima È fondamentalmente Tutta acqua e cespugli Ci sono solamente Delle caselline libere Per far spawnare I bulloncini E Un Quadratino centrale Libero Dove Effettivamente Si può spottare Il nemico Ovviamente Cosa usare qua Se non una bella tara Con il gadget Perché più che altro Voglio farvi vedere Una cosa molto carina Che si può Applicare ad esempio Adesso in assedio Facciamo subito Un bel test Guardate dove Mi fa spawnare Oltretutto Mi sono inventato Puro degli spawn Senza senso Ma dettagli I miei compagni Hanno effettivamente Delle grosse difficoltà Come vedete Guardate come spawnano I bulloncini E spawnano Tra l'altro In un determinato ordine Quindi noi qua Prendiamo il primo Ma gli altri Dovrebbero poi apparire Ecco vedete Tutti In una maniera Sfasata È tutta una roba Intricata Ragazzi Lo so Mi devo complicare la vita A tutti i costi Ma la roba bella È che se ci fate caso O meglio Se non ci fate caso Non si può Capire Dov'è l'inizio Della Dell'area Della Ike Cioè non si capisce Tra l'altro guardate Il nuovo lupo Potenziato Quanto è forte Ragazzi Cerco di grabbarmi I robottoni E tutta la compagnia bella Qua ho fatto anche Un po' Un rotolo del cespuglio Per ora forse Solamente Con il gadget Riusciamo a capire Effettivamente Come è l'area nemica I miei Compagni bot Comunque stanno Veramente giocando Alla viva Il parroco Diciamocelo Eccola qua La carissima Penny Andiamo a prendere Dei bulloncini Ok Tra l'altro Non so se notate Qua in mezzo Si possono anche piazzare Come delle decorazioni Degli ingranaggi È un po' come Magari Si possono piazzare Dei cespugli O delle robe del genere Qua si possono piazzare Degli ingranaggi per terra E adesso Vi faccio vedere Che non si capisce Dov'è l'inizio Della Ike nemica Ma se Dove va il robot Dove va il robot What 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 a bug E niente ragazzi E' successo È stato un piccolo Piccolo incidente Magari Dandogli la visione Il bot capirà Un po' di più Vedete che con la visione Si capisce effettivamente Dov'è la La zona Ragazzi Il bot è mezzo impazzito Qua eh Il bot è un attimino È un attimino impazzito Non so È un attimo tiltato Lo zio Andiamo a tirarci una bella ulti Sparo due colpi anch'io Però insomma Direi che Ce la portiamo a casa così Tanto non è Non sto giocando per vincere Più che altro Per far vedere Le dinamiche malate Che mi sono inventato E Ovviamente ragazzi Se non si fosse capito La Ike Non guardaci spugli Cioè Se Se voi siete nascosti Non ne può fregare De meno Lei vi beccherà lo stesso Lei appena entrate Vi beccherà lo stesso Non c'è modo Per nascondersi Dal raggio della Ike È È infallibile Ecco E Ce la portiamo a casa Cheat forse No 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 Ok abbiamo difeso Gadgettino ancora una volta Notare che appunto Parte del cerchio Della Ike Era nell'acqua E effettivamente Io ho potuto comunque Fare il placement liberamente Quindi Da molta libertà Questo mapmaker Con l'assedio Ma adesso vi sfodero L'ultima idea malata Che è il test di dominio Numero 1 Ed è questo ragazzi Sono 6 aree Dove si spawna E in teoria Dovrebbe continuare A cercare di sbalzarti A destra e a sinistra Vi faccio vedere Un attimino meglio Anche perché vedo Che c'è un piccolo errorino Aspettate Facciamo così Ok Questa è la mappa Per come l'ho creata io Vedete Io posso andare A piazzare Effettivamente Muretti E jump All'interno Della zona Questa qua è una cosa Molto particolare Ecco facciamo così E in teoria Qua ci dovrebbe costringere A jumpare sempre A destra e a sinistra E non ci dovrebbe mai Dare la possibilità Di tornare nei punti di spawn Oltretutto i punti di spawn Sono particolari Perché può capitarvi O la zona auto vostra Oppure Un 1v1 C'è un 50% di possibilità Una mappa un po' intricata Ve l'ho detto Per tale ragione Io metto un bel bull Ignorante E vado Cattivissimo Con un bello scudo E gadget curativo Vammonos Vediamo un pochettino Che cosa esce fuori Vediamo 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 Puntualmente 1v1 E ci sta tutto Facciamoci al volo Questo Edgar Ok E in teoria ragazzi Jumpando di là Dovrebbe cominciare Il delirio Ecco perché mi comincia A far andare Una volta di qua Una volta di là Una volta di qua Una volta di là E ragazzi Io passo così il tempo Ragazzi Inventarmi Ste robe folli E in realtà c'è questa zona Salva in mezzo Perché effettivamente Qua dove sono io Non si poteva piazzare niente Cioè proprio al centro Della zona Dove c'era quel pallino rosso Che ho fatto vedere prima Non si poteva fare niente Comunque notare la mappa È un qualcosa Veramente di mistico No mi piace Mi piace un sacco ragazzi Cioè Non sapevo Come inventarmi Una roba più malata di così Facciamo pure una screenshot E Che vi posso dire Ho una fermida Immaginazione Ovviamente il bello È che in tutto ciò Sto pure vincendo Non si sa bene come Vabbè ovviamente Possiamo anche giocare Un po' contro le regole Eccoci qua E possiamo anche Sparare due colpetti Insomma dai Giochiamocela anche Un po' più Un po' più seri Ma sì dai Rompiamo tutto Chi se ne frega Ok ci carichiamo Un po' la vita Giampiamo di là Tiriamo una botta Edgar Giampiamo di là Raga È fantastica Sta roba È veramente fantastica Voglio dire Se mi sono inventato Queste mappe Chissà voi Che avete sicuramente Più inventiva di me Cosa potrete tirar fuori Quindi ragazzi Cominciate a sbizzarrirvi Chi lo sa che magari Non arriveranno Di video particolari Su delle idee strane Che mi sono venute in mente Giocando questa modalità Devo già par di là Ma mi sa Che la vinciamo 99 99 A 100 Lol ragazzi Ma cos'è Ce l'hanno proprio lasciata I bot Vabbè Raga Questo è Spero che queste idee Possano fungere Da ispirazione Per voi Ci becchiamo Molto molto presto Un saluto a tutti E Ciao belli